Il vostro carisma è di grande attualità, prendete decisioni rischiose e non abbiate paura come ha fatto San Giovanni Bosco. L'incontro nella Basilica di Santa Maria Ausiliatrice nel primo pomeriggio a Torino è stata l'occasione per Papa Francesco di fare un viaggio nel passato e raccontare quanto la famiglia salesiana abbia contribuito alla sua formazione umana e affettiva. Abbandonando il discorso preparato, troppo formale, ha detto, il Pontefice ha ricordato episodi dell'infanzia della sua famiglia e ha invitato gli eredi spirituali del Santo Piemontese, a 200 anni dalla nascita, a rinnovare ogni giorno la creatività salesiana, affrontando due sfide fondamentali, educare e portare alla gioia. Il salesiano è concreto, ha detto Papa Bergoglio, scherzando tra gli applausi, altrimenti gli manca qualcosa. Ed è proprio a partire da questa concretezza che i salesiani oggi devono andare incontro a quei tanti giovani senza speranza che per strada lasciano scorrere una vita senza sogni, senza lavoro, senza futuro. Don Bosco, contro le critiche del tempo, andò incontro ai ragazzi, sostenuto da un'incrollabile fiducia in Dio, educandoli allo sport che porta alla competitività sana ed educandoli ai mestieri. Con un grande senso di riconoscenza per una figura tanto emblematica, il Pontefice ha infine ricordato i tre amori bianchi di Don Bosco, alla cui formazione ha tanto contribuito la mamma Margherita, la Madonna, l'Eucarestia e il Papa. In un tripudio di entusiasmo l'incontro si è concluso con un saluto ai giovani degli oratori che hanno colorato il piazzale antistante e la Basilica. A loro il successore di Pietro ha chiesto di andare sempre avanti con gioia e non con la faccia d'aceto, coltivando l'amicizia con Gesù.